Possiamo andare a votare con il nostro cane? La risposta è nulla osta. Il ministro dell'interno infatti ha chiarito che a livello nazionale non ci sono controindicazioni per andare a votare col cane, addirittura entrare all'interno della cabina elettorale. È il presidente di seggio che ha la possibilità di escludere o meno il cane ai seggi. Questo perché per esempio potrebbe esserci un membro della commissione che ha paura o allergico o per altre cause ovviamente che devono essere specificate. Qual è il consiglio? Informiamoci prima, non lasciamolo mai legato fuori in custodito. Andiamo con il nostro cane legato chiaramente al quinsaglio e portiamoci la moseruola che ricordiamo per legge può essere apposta soltanto in caso di necessità o nel caso dei seggi se dovesse essere richiesto per una motivazione particolare.